Milde era una bambina che all'età di dieci anni gli sono morti i genitori. La sua passione è andare in bicicletta e da quando i suoi genitori sono mancati vive a casa da sola. Va a scuola e lavora per strada per guadagnarsi un po' qualche soldino. Gli piaceva uscire con le amiche ma un giorno succedì l'impossibile. Oddio ragazzi cos'è stato? Vabbè dai vado a dormire sarà solo la mia immaginazione. Vabbè dai riandiamo a dormire. Buonanotte. Oddio ragazzi cosa è successo? Adesso l'ho sentita benissimo. C'è una mia amica. Che paura ragazzi. Quando risponde? Ehi ciao ragazzi cosa c'è? Alice ho sentito un rumore strano in casa. Sai da quando sono da sola e sono morti i miei genitori ho molto paura. Però te lo giuro l'ho sentito. Puoi venire a casa mia per favore? Che tragica che sei Mati. Vabbè dai allora arrivo a casa tua ci vediamo. Ok Ali allora ti aspetto fai veloce. Mati sono io ora tu. Eccomi Ali ti apro entra entra. Ciao Mati come stai? Diciamo bene. Ho sentito dei rumori strani al piano di sopra. Vuoi venire a vedere? Sì che tragica va bene. Vieni vieni Ali ti faccio vedere. Ok. Ok allora ti aspetto. Due ore dopo. Ma Mati sono passate due ore e non c'è niente. Non è successo niente. Ma te lo giuro quando ero qua ho sentito dei rumori. Vabbè allora vai al piano di sotto e ti raggiungo. Ok Mati. Ragazzi ve lo giuro io li avevo sentiti. Li avevate sentiti pure voi. Vabbè dai. Oddio ragazzi l'ho sentito l'ho sentito. Ali Ali Ali. Che c'è Mati? Cosa è successo? Ali te lo giuro ho sentito dei rumori. Chiamiamo Elisa per favore. Ok ok calma adesso non chiamo. Eri vieni. Mati dice che ci sono dei rumori dentro casa. Dentro camera sua. Ok Ali faccio vedere un sentivo. Arrivo. Mati all'interno qui apritemi. Eccoci Eli vieni entra. Ho sentito dei rumori te lo giuro. Ma come Mati? Lili te lo giuro ti prego almeno te credimi. Adesso ti piace questo anche io stanno ho sentito dei rumori strani. Sì è vero ma è una coincidenza che era tutto nebbioso e pioveva così forte. No. In effetti come fa ad essere una coincidenza? Abbiamo sentito dei rumori. Era buio. Era notte. Ragazzi cosa dobbiamo fare? Ragazzi cosa dobbiamo fare?